La politica in vista delle prossime scadenze elettorali, prima nazionali e poi locali, si è riunito il coordinamento regionale di Fratelli d'Italia. Sentiamo Daniele Petraroli. Ristabilire la sovranità popolare dando la priorità agli italiani. E se il sovranismo e il patriottismo sono da tempo al centro del programma di Fratelli d'Italia su base nazionale, adesso vengono declinati anche in chiave lucana. Il coordinamento regionale del partito di Giorgia Meloni, che si è riunito a Potenza, ha delinato le linee programmatiche non solo per le elezioni politiche che si svolgeranno a marzo, ma anche per le regionali del prossimo anno. Obiettivo strappare al PD la Basilicata, terra storicamente avara con il centro-destra. Noi saremo presenti con le nostre liste e proporremo liste pulite, soprattutto personaggi credibili nei confronti lucani, perché ci candidiamo ad essere classi di governo. E il centro-destra e Fratelli d'Italia in primis può avere questo ruolo in Basilicata. Contrasto all'immigrazione, secondo Fratelli d'Italia, è il modo in cui il governatore Pittella pensa di risolvere il problema dell'immigrazione di tanti lucani. E alle politiche del lavoro ideate dal PD, che avrebbero portato negli anni solo assistenzialismo e precarietà. Questi due temi principali del programma elettorale in vista delle regionali, insieme all'aumento dei controlli sulle estrazioni petrolifere per tutelare l'ambiente, e al sostegno alle imprese, uniche secondo Rosa, in grado di creare lavoro stabile.